Cura nel dettaglio, attenzione e determinazione. Realizzare un impasto a regola d'arte richiede tante capacità. La tecnica è fondamentale. Non bisogna mai arrendersi e provare fino a che non si raggiungi l'obiettivo. Nulla deve essere lasciato al caso. La tensione deve essere sempre massima, unita all'adrenalina che si prova nell'attesa. Questi sono gli ingredienti che portano al risultato vincente. Vedere la pinza pronta con la sua alberlatura perfetta. Come nello sport, un bello coach deve saper trasmettere alla propria squadra questi valori. Per me è lo stesso nel mio lavoro. Perché essere responsabile del settore pinza significa entusiasmo, amore per l'impasto e allenamento continuo. Sono Massimo Monni e sono il coach della pinza al Good Cagliari.